Ciao, sono appena uscita da Ravne Tunnel, che è un posto incredibile. C'è un'energia potentissima, molto molto forte, tanto da farmi sentire completamente confusa. È un luogo dove la vibrazione è veramente forte da poter addirittura portare alla guarigione e tutta una serie di patologie, infatti proprio spiegano, raccontano come questo sia già avvenuto parecchie volte. Tra l'altro c'è una fonte d'acqua, non so se è una fonte o un lago di acqua che ha una vibrazione particolare. È stata anche inviata a Masaru Emoto quando era ancora in vita per poterla analizzare ed è stato rilevato che è un'acqua purissima, molto ancestrale, potremmo dire incontaminata, totalmente incontaminata e alcune delle persone che hanno assunto quest'acqua l'hanno provata su persone di 80-90 anni, hanno migliorato tantissimo le loro condizioni, hanno stabilizzato i loro valori. E quindi insomma è un posto veramente fortissimo, infatti non sono tanto in grado neanche di fare un video e voglio concludere con una cosa molto simpatica e buffa che ho appena visto. Guarda il cartello della toilette di questo luogo, non so se riesci a vederlo perché incontro luce. Sembra proprio che qui ci siano anche gli alieni. Ciao, a presto, ti terrò aggiornata su questo viaggio molto molto particolare. Ciao! 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 Ciao!